mi sa chi è o mo? fammi vedere oh ciao frate come com'è? gelato? e che come dice i bui e andiamo dai oh si sa chi è mo uè frate è tutto a posto il cornetto? non lo chiedi pure andiamo quasi ti voglio andiamo sempre così come va? ma quest'anno la provo con tu eh sicuramente è andata a fottersi niente da fare niente da fare proprio ti abbiamo esagerato eh si tra questi gelati tra questi cornetto ma ti rendi conto? ci mancava pure la pizza ogni sera mo vabbè e cosa facciamo adesso? anche quest'anno andiamo sulla simpatica eh sembra così eh si sempre mai una gioia sempre mai 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 ok? ieri per il giorno due rette parallele che non ci incontrano mai vorrei mai in un posto che ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazional popolare la voglia di cantare tanto uffa una nuova da latino che palle mamma netta ma fuori che verde ma noi iniziamo fuori con il catullo che palle ma me che me ne fotte il catullo che me ne fotte di odio e tamo ma che me ne fotte il moscoccio me ne vado mai uffa uffa mamma mia mamma mia devo fare questo cazzo di chimica mamma devo fare questo galludio di selene ma chi me lo faccia qua? io non ce la faccio più fammi fare chi è? ho aperto 10 giorni per aprire sto studiando chimica faccio qualche esercizio ehhh indumentatura certo lo hai conosco è molto difficile che vuoi fare? voglio portare il gelato no no il gelato si serve anche un canello e pure il cornetto ho potuto sapere ma che faccio ma nell'inache ho notato però non ho capito devi fare il gelato potremmo e il gelato è il gelato non lo faccio non troppo è sì ahhh è peggio di sì ma che cazzo sta succedendo ma quanti cazzo di messaggi stanno arrivando ma in Dario ci vedeva un po' con l'Italia adesso le continuiamo però stai molto buono Silvio poi spegno dai spegniamo poi Silvio comunque ho intenzione di rimorchiare questa estate ma sì direi che ci stiamo provando da quattro anni ma sì però ogni anno non ci riusciamo dai non ci stai mai una gioia quest'anno mi sento che andrà bene mi sento una gioia allora ti do dei consigli piccoli perché io sto giocando vabbè dai dai dici sicuramente tutto deve essere elegante molto fresh ma ti rendi conti deve essere elegante pure in estate elegante no non c'è più cravatta mochi no no molto swag underground che bello cane adesso possiamo andare a rimorchiare quindi vada di fare tante cari oh frate ma ti vedo mochi che sta succedendo come niente che sta succedendo racconta no ovviamente eh buono quindi non ti consigli dimmelo a me allora per prima cosa devi iniziare a stoccherarla iniziala a seguire su instagram beh sono su instagram iniziala a seguire bravo 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 adesso devi seguire poi adesso fai una cosa importante facebook facebook lo tieni sui tre amici di facebook si e fai una cosa chiama condattela iniziala su un messenger iniziala un poco a parlare poi gli chiedi il numero su whatsapp iniziala a parlare su whatsapp e gli dici stronzale gli dici wow wow dobbiamo uscire un poco scendiamoci un poco di più e il tocco è fatto così si fa solo così poi lo devi stoccherà lo sai devi fare messi mi piace ad ogni foto sia su facebook ask instagram non lo tieni lo tieni ask allora non è buono questo non è che lo tieni ask non è buono comunque mi piace a tutti hai capito? beh ora fai chiamare vincenzo come va? eh dobbiamo uscire ora ora proviamo ah che bello famiglia un poco facebook da parecchio che non ci entro mamma ah oh bello il Rocco anche ok non mi vedevo uè Silvio come stai? tu è al posto? dobbiamo uscire? eh eh dammi dieci minuti dieci minuti quindi io sono prontissimo un attimo solo vediamo beh no no io sono pronto devo fare un attimo una cosa con mamma ma eh si non ti preoccupare ciao 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 un po' di merda un po' di merda come va? oh è passata da me ti vuoi muovere? si? o no? come un bruttuccio ma bruttuccio è una merda vaffanculo ahhh che bello mamma quanti anni che non andavo a coppa a facebook a me vero poco su youtube a me vero poco dei video azi vediamo prima il canale mio di Silvio e poi vediamo a proposito del canale questo è Silvio come vedete un attimo poi Silvio eh vedi che non lo sto tanto bene eh non voglio uscire eh non mi sento bene si eh Silvio no poi te devo aiutare mamma a fare le cose meglio di no Silvio lascia perdere ah me ne frega fammi vedere un po' questo cazzo di canale nostro ma sembra abbastanza bello però dobbiamo fare più video cioè vedi che bello che sta qua oh bello le schiaglie guarda là fuori guarda guarda là fuori guarda là fuori ma titolo ecc ecc partitela o ultimate team quello che vuoi eh ragazzi per oggi il video finisce qui legge bc è tutto ragazzi noi speriamo che vi sia piaciuto vi ricordiamo che ci mettiamo un pollice in su in su e di seguirci sui social perchè stiamo mettendo parecchie proprie mettiamo in descrizione i nostri account di snapchat di ask come sempre e di instagram e facebook con pagina compresa e tutto quindi mettete un pollice nei zoom vai silvia vi ricordiamo inoltre di iscrivervi al canale e possiamo rivedere altro video ciao 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 ciao